Musica Benvenuti ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker Siamo arrivati signori Di nuovo a Gorizia A grado, per la precision Per essere più precisi E sono qua di nuovo ragazzi per il tatuaggio Che mi devo continuare qui sul braccio del Joker Tutto quanto, e sono subito nel Non vi ho fatto vedere il viaggio Perché tanto ormai il viaggio lo sapevo tutti Cioè, a furia di far vedere la tratta dell'aereo Ci arriviamo ancora più etimo adesso, così Allora, sono sempre in una stanza Qui se subito calma e già se sta a guardare lo specchio Lo specchio infatti già sei rotto Mi dobbiamo chiamare, cioè Qui ci facciamo una posa a te dopo Ti fa il cacchino, amore? Mi hanno il bagno Ti fa il cacchino Allora, questo è sempre il divanetto Ormai le stanze da casa sono queste, conoscete Il letto, lì c'è il tv Lì mi metterò io a montare i video Mi sono portato del pc nuovo Perché ho il pc nuovo che ho portato Il gaming dell'MSR, che è una bomba incredibile E infatti ho preso uno zeno nuovo Per metterci dentro il pc Mi sono portato due connessioni Vodafone e alternativa Così almeno Non si sa mai ragazzi, devo caricare tipo 13 video, cioè non c'ho da montare Perché l'ho registrato e me ne sono anticipati All'incirca 12 video Perché raga poi io dopo qui Non torno a Roma Devo andare diretto a Milano Perché è un evento Di Duracell Devo provare Forza Horizon con mio fratello E qualche altro youtuber Quindi non partirò da qui Per andare a Roma Ma partirò da qui Per andare a Milano Quindi E poi da Milano Mi è toccato la Roma Un po' di giletti E allora ragazzi Io mi metto a montare i video Ci vediamo domani mattina Direttamente Allo studio di Alex Rebate E quindi possiamo proseguire Il tatuaggio Ciao signori A dopo Ragazzi Buongiorno Carmen Buongiorno Ah buongiorno Ragazzi Allora Siamo arrivati Mamma mia Ragazzi C'ho un sonno oggi Che è qualcosa di incredibile Allora Niente Ragazzi Se vi spiego quello che è successo ieri sera Manco ci credete Praticamente stavo a montare i video Quello delle 19 Dove praticamente Avevo finito di montare il video delle 19 Mi mancava un pezzettino E mi ero dimenticato Quindi l'ho ri-renditizzato Non so che ho fatto Ragazzi Tipo l'impiccio Ho cancellato una cosa qua da là Ho cancellato tutto il video Ho rimontato tutto il video del 19 Vada ragazzi Un bordello incredibile Comunque Adesso scendiamo già a fare colazione Poi andiamo allo studio di Alex E possiamo iniziare questo tatuaggio Che poi ragazzi Praticamente questo qua Vedi Questo che Praticamente Devo continuare questo qui Vedete Lo devo continuare tutto sopra Perché ovviamente qua Il braccio ragazzi Deve essere tutto chiuso Perché la gente dice Quanti tatuaggi ti stai facendo Mi devo chiudere praticamente il braccio E Penso voglio aver finito Perché poi Quest'altro la torta l'ho chiuso Però non ho fatto proprio un video Di questo qui Vorrei fare più video di questo Dedicato a Joker Comunque ragazzi Ci vediamo dopo lo studio di Alex Quindi Intanto la facculazione Che Sono stanco Ragazzi Ho un sonno Che è incredibile Ci vediamo dopo Eccoci qua Siamo arrivati Davanti 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 Lo studio di Alex Sto facendo una partita A Pokemon Go Vi faccio vedere Eccoci qua Vedete Alex De Pase Tattoo Regà Non so se Oggi Pure mi tatuo qui È freddissimo Sì Qua fa poco Regà qua fa poco freddo Però se sta bene Io perché adoro il freddo Praticamente Non so se mi tatuerà Qui allo studio Oppure Se rientriamo all'altro studio Di Cervignano Non lo so Sinceramente Quindi dobbiamo vedere un attimino Quindi ragazzi Tra poco entro Possiamo iniziare con il tatuaggio Io come sempre Sono sempre contentissimo Regà perché comunque È sempre una grande soddisfazione E emozione Farsi tatuare Da poi Dall'extra base Che Vodica fa E quindi niente Ci vediamo più tardi Ci vediamo adesso con il tatuaggio Godetvi questo video E poi ci vediamo Praticamente Regà Più tardi Quando arriverò In Hotels We lose our sight We lose our sight When we put our trust in things Half this material world But things that fade away Corps I keep on in bed, 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 keep on Grazie a tutti 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 Grazie a tutti